Noi come operatori del mare ci siamo appoggiati a signor Luigi Abate e lo vogliamo come sindaco perché a differenza degli altri politici che sono venuti solo il primo giorno quando volevano i voti e poi sono spariti. Per quanto riguarda la nostra categoria abbiamo urgente bisogno di un sostegno per questo noi appoggiamo il nostro candidato sindaco. Io sono stato con voi per vent'un'anni come giornalista voglio essere con voi. Viva il mare, viva la marineria! Il mare per il futuro di Taranto, un operatore Giuseppe che è appunto il comandante di questa barca Taranto deve chiudere quel mostro, quell'ex ilva assassina e deve vivere di mare è normale che deve vivere di mare perché l'ilva non ci dà niente, dà solamente la morte tra i bambini della città, alle persone, cioè tutto l'essere umano ci dà la morte ma ce ne frega niente dell'ilva, possiamo vivere solo di mare, ci serve soltanto il mare il risorso del mare perché noi siamo parecchie persone che c'è per tutta l'Italia parecchi marinai, milioni di marinai ci sono perché il parche sono una volta però su Taranto purtroppo c'è l'ilva che ci sta distruggendo, ci fa inquinamento anche nel mare Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!